Amiche e amici di Rossini TV, siamo nel cortile del collegio Raffaello di Urbino per assistere al primo degli eventi che apre le celebrazioni del 200esimo anniversario della nascita di padre Alessandro Serpieri. Qui c'è uno studio del Serpieri che dura da tantissimi anni, nato dal professor Vetrano che ha valorizzato gli strumenti che Serpieri aveva in qualche modo recuperato, aveva fatto costruire. Poi c'è anche il professor Mantovani che li ha studiati e Piero Paolucci che è il segretario del comitato di queste celebrazioni. Sono stati loro che mi hanno insegnato tanto e quindi mi sono davvero divertito a scoprire questa figura di scienziato poliedrico perché quello che colpisce tantissimo di Serpieri è il fatto che affrontasse temi più disparati con questa curiosità, con questa voglia di capire, con questa voglia di annotare minuziosamente tutti i fenomeni che osservava e quindi cercare davvero di trovare delle leggi e poi ha fatto anche scoperte fondamentali che sono state poi valorizzate a livello nazionale, a livello internazionale. Con Mari Cabranchesi è un'emozione per noi averla con noi. Che emozione è tornare a Urbino e raccontare un po' delle sue cose agli urbinati? Dunque per me essere Urbino è la mia casa e quindi ci torno sempre con estremo piacere a una casa Urbino. Essere qui oggi è veramente importante anche a raccontare Alessandro Serpieri ma anche l'astronomia di oggi e del futuro. Serpieri è un esempio, un esempio di scienziato e come gli scienziati devono essere oggi. Per lui era importante la contaminazione, la diversità nella scienza, l'unire la scienza all'arte e anche l'educazione. Sono cose importantissime per ogni scienziato. Noi è assolutamente importante far capire che la scienza è per tutti e secondo me è importantissimo trasmettere il messaggio che lo scienziato non è più una persona isolata che lavora nel suo ufficio Einstein ma sono tante persone che lavorano insieme e c'è una grande passione. Quindi quello che bisogna trasmettere alla gente è la passione e quello che facciamo. Noi guardiamo il cielo, osserviamo il cielo, cerchiamo delle risposte e la bellezza è proprio di osservare e far capire alla gente la bellezza dell'universo.